Buongiorno, ben svegliati questa mattina subito in partenza per la Sicilia. Sì perché domenica il 20 gennaio ci sarà una festa grandissima ed è la festa in onore di una santa che qui non è mai entrata, Santa Eustochia. Intanto a Messina dovrebbe essere già pronta la nostra Antonella Ventre. Antonella? Eccola! Sì Lucia, il buongiorno ti arriva da Messina. La vedete alle mie spalle, la cattedrale di questa bellissima città contornata dal mare. Io mi sto spostando proprio per indicarvi anche la Madonna della Lettera che adesso è proprio alle mie spalle protettrice di questa città. Ma noi siamo qui per raccontarvi un'altra storia, quella di Santa Eustochia che qui ha vissuto e il cui corpo qui è conservato. La santa in piedi, la definita Giovanni Paolo II, noi ci porteremo proprio davanti a quel corpo. Ci rivediamo dopo anche perché qui inizia a piovere, quindi a dopo. Eh no! Splenderà il sole Antonella, ne sono certa. E allora, chi era Santa Eustochia? La santa in piedi. Canonizzata, pensate, proprio a Messina da Giovanni Paolo II. Che entri? Giacomo Sorrenti. Professore, buongiorno. Docente dell'Ignaziano di Messina. Professore, io mi sono innamorata prima di questa donna e poi di questa santa. Intanto in che secolo ci muoviamo e soprattutto in che ambiente sociale? Perché io vi sei fondamentale. Siamo nel XV secolo, Eustochia nasce il 25 marzo, quindi già in un giorno abbastanza particolare. Il giorno dell'annunciazione. Nel 1434. Le viene messo il nome di Smeralda. Dice lo sua biografa che fu uno smeraldo prezioso innanzi a Dio e agli uomini. Quanta era bella Smeralda? Molto bella, tanto che i pretendenti al matrimonio non mancarono. Lei nascondeva questa bellezza perché desiderava consacrarsi al Signore. Eppure già a 11 anni era stata promessa sposa. Al tempo i matrimoni si combinavano in modo particolare tra le famiglie importanti e benestanti. 11 anni, promessa sposa. Poi muore il futuro sposo. Vogliamo dire anche una cosa. Un uomo che aveva più del doppio dei suoi anni. Aveva circa 30 anni. 30 anni, era già un vedovo. Esatto. E possiamo solo immaginare. Mi faccia immaginare, visto che lei venne qua a raccontare di Eustochia, quale tormento agitava l'anima di questa ragazzina che voleva essere bella solo per il Signore. Non fu semplice questa notizia per lei. Il matrimonio non era nei suoi progetti di vita. Eppure siamo nel 400 e una donna poteva scegliere poco del suo futuro. Però lecco con grande coraggio, confidando nel Signore, con l'aiuto della madre. La madre Mascalda, che a seconda questo suo desiderio di consacrarsi al Signore, riesce, ma ripeto solo alla morte del futuro promesso sposo e del padre, di entrare, riesce a entrare in monastero. Fa molto bene ricordarci questa cosa. Devono, tra virgolette, morire il futuro promesso sposo e il padre perché lei possa essere libera di scegliere. In una Sicilia maschilista, allora, quante battaglie le donne di Sicilia hanno fatto? Io farei un applauso al coraggio delle donne! Antonella, ci sei? Montevergine di Messina, eccola! Sì, Lucia, siamo entrati all'interno del monastero di Montevergine, dove è custodito il corpo di Sante Ostoghi e dove tra poco arriveremo. E ad accoglierci c'è Madre Agnese, che è la badessa. Buongiorno! Pasce bene! Madre Agnese, noi siamo qui per raccontare anche un po' quella che è stata la vita di Sante Ostoghi attraverso alcuni particolari. Accanto a noi c'è Suor Iacoba, la vediamo, che è stata la sua biografa, ma anche, possiamo definirla, una sua amica. Sì, effettivamente è stata la prima amica di Sante Ostoghi quando hanno lasciato il monastero di Basico, perché tutte e due erano entrate nel monastero di Basico. Lì hanno visto che non si osservava la regola di Innocenzo IV, c'era la regola di Urbano, di Papa Urbano. Allora hanno chiesto al Papa il permesso di fare una fondazione, perché avevano il desiderio di ritornare alla regola primitiva, quella di Santa Chiara. E ci spostiamo proprio perché qui è custodita la reliquia di quella regola. È bello però raccontare che Suor Iacoba e Sante Ostoghi erano amiche in vita, ma lo rimangono anche nella morte. Sì, infatti sono arrivata al monastero di Montevergini Parenti, che hanno portato via le suore. L'ultima che rimaneva era Suor Iapoga. Allora Suor Eustoghi si rivolge a lei e lei dice «Volete andarvene anche voi?» Lei risponde «Non ti lascerò né in vita né in morte». E infatti... Custodita proprio accanto al corpo di Sante Ostoghi, che tra poco vedremo. Siamo arrivati al cospetto della regola, anche qui un fatto prodigioso. Come arriva qui questa regola, quella originale? Un benefattore di Suor Eustoghi, il figlio, trova questo librettino sul bordo del fiume. Pioveva una giornata di pioggia, il torrente c'era l'acqua e il librettino era asciutto. E allora il papà vedendolo dice «Ma è quello che cerca Suor Eustoghi?» E allora glielo porta a Suor Eustoghi, che lei felicemente accoglie la regola che lei appunto desiderava. E questo ha incrementato di più in lei il desiderio della fondazione del monastero di Montevergine. Infatti proprio di questo parleremo, Lucia, tra poco, perché ci spostiamo davanti al corpo di Sante Ostoghi e vediamo come il suo stare in piedi all'interno di questa chiesa, come la definisce Papa Giovanni Paolo II, è una protezione non solo per voi sorelle ma anche per tutta la città. Io la ringrazio, madre. Lucia, ci rivediamo tra pochissimo. Ci spostiamo davanti al corpo. Grazie Antonella e grazie anche di questo accenno alla protezione di una città. Noi siamo molto vicini. Voi sapete che nella notte scorsa c'è stato un gravissimo incidente. Mezza Messina è a lutto quest'oggi. Permetteteci di esprimere il nostro cordoglio per le vittime di questo incidente stradale. Gravissimo. L'unica cosa che possiamo fare per chi ci crede di pregare anche per le anime di queste persone. Antonella, a te. La Santa è in piedi, hai detto. Sì, Lucia, eccoci prontissimi a portarci davanti al corpo di Sant'Eustocchia. Lo facciamo con il cappellano di questo monastero di Montevergine, Monsignor Pietro Aliquò. Monsignore, dicevo, ci portiamo davanti al corpo e tra poco proveremo anche ad arrivare lì su. Ma prima vogliamo capire come questo corpo che svetta sopra l'altare maggiore protegge non solo le sue sorelle ma questa città. Intanto ho il piacere di dirvi che questa è la chiesa dedicata a Sant'Eustocchia Smeralda e che è conosciuta questa chiesa dalla gente come la chiesa di Sant'Eustocchia. E' vero, la chiesa ruota intorno all'altare e poi ha il suo vertice ascensionale nell'incontro con il corpo incorrotto di Sant'Eustocchia Smeralda. Ed è una chiesa che invita a pensarsi in cammino e a guardare verso l'alto. Noi ci stiamo spostando proprio per portarci davanti al corpo di Sant'Eustocchia e per vedere come questo corpo ancora oggi ci parli. Ma ci dica in pochi secondi il legame tra Messina e Sant'Eustocchia. Lei soffriva gli eventi della città con particolare riferimento a quelli dolorosi. Monsignore, siamo arrivati proprio davanti al corpo di Sant'Eustocchia e questo ci permette di guardarla più da vicino e di vedere come sia un corpo che ancora oggi ci parla nella sua posizione in piedi ma anche in tanti altri dettagli. Ecco, la posizione è in piedi. Ricordo che Papa Giovanni Paolo II la chiamava la Santa, la Santa in piedi. Ad indicare quasi la vita di grazia, la vita secondo lo spirito e in piedi e indica il cielo. Come l'emissione di sangue dal naso e come questo gesto di benedizione. In pratica lei si congeda dalle sue consorelle e dai suoi devoti con un gesto di benedizione. E' la benedizione che la madre dà alle sue figlie. La Santa continua a stare tra le sue consorelle, continua a vivere la vita della città con la presenza del suo corpo che è incorrotto. Io la ringrazio Monsignore perché ecco ci ha fatto capire come un corpo incorrotto, spesso ne vediamo di santi, possa ancora essere una presenza viva all'interno di una città così grande come Vessina e accompagnarla nella vita di tutti i giorni. La ringrazio infinitamente. Lucia da qui da Messina è tutto. A te la linea. Antonella. Grazie.